Un'estate complicata per dipendenti comunali e per tutti coloro che abitualmente parcheggiano l'auto nell'ampia area di Bita, sulla Golena Nord a Pescara. Lo spazio sarà a breve cantirizzato dall'ACA per la realizzazione di alcune delle otto vasche complessivamente previste per la raccolta delle prime piogge. In questi giorni si sta eseguendo la verifica bellica e poi l'area sarà temporaneamente riaperta per essere nuovamente chiusa per consentire di effettuare un piano di caratterizzazione da giugno poi la chiusura definitiva, fine prevista dei lavori tra novembre e dicembre. È un progetto che è partito diversi anni fa, ha attraversato i vari tavoli istituzionali, il comune in primis e quindi sapevamo tutti che sarebbe arrivato il momento di esecuzione dei lavori, quindi è un sacrificio che un po' la collettività deve accollarsi perché ci sarà poi un grande beneficio che sarà quello di avere acqua più pulita per la balneazione. E prosegue dunque l'intenso crono programma di interventi a macchia di leopardo su tutto il territorio provinciale che prevede la realizzazione di ben otto vasche, due collettori, la rifacimento dell'acquedotto giardino da popoli e la riqualificazione del depuratore. ACA sta facendo tanto, se c'è da sacrificarsi un pochino per un po' di mesi io penso che valga la pena per il beneficio di tutti.